Ciao amici, oggi vi presento il nuovo Few Pocket 2, il dispositivo di ripresa portatile ad alta risoluzione. Sebbene tu possa scattare foto e fare video con uno smartphone, con il Few Pocket 2 avete tutte le caratteristiche di un action cam, ma con il gimbal stabilizzato su tre assi avete riprese più efficaci rispetto ad un action cam. E' molto compatto con un peso di 127 grammi, guardate le dimensioni del DJI Pocket 2 a cui è attaccato il modulo wireless e guardate le dimensioni del Few Pocket 2 che ha già il modulo wifi incluso nel corpo. E' fatto in lega di alluminio, corpo interamente in metallo opaco e in plastica ABS. Potrete realizzare video fino a 4K a 60 FPS di risoluzione, ma anche foto a 4000 x 3000. La batteria a litio dura 190 minuti facendo video a 4K a 30 FPS e 220 minuti facendo video in Full HD a 30 FPS. Dunque sul lato troviamo il tasto d'accensione e di spegnimento, il microfono, sull'altro lato invece abbiamo lo slot per la mini SD, l'USB-C per ricaricarlo. Nella parte frontale abbiamo l'LCD veramente bello, è molto sensibile al tocco del dito, quindi risponde molto bene. Abbiamo il tasto per scattare foto e per registrare video e poi il fantastico joystick. Abbiamo a disposizione la modalità follow mode, all follow mode, pan mode, modalità selfie. Come potete vedere è anche molto stabilizzato per i video in movimento. Altre modalità disponibili sono lo slow motion, modalità foto, timelapse e panorama. Ho fatto una prova sia col DJI che con il FU Pocket, 1920 x 1080 30 FPS, modalità automatica. In dotazione c'è la custodia rigida, il laccetto e il cavo per ricaricare. C'è anche il modello FU Pocket 2S che ha la testina che si può staccare. Il prezzo sarà sotto nella descrizione. Ringrazio la FU per la preziosa collaborazione. Ciao e alla prossima recensione.